Praticamente vi ho fatto vedere il video chi ha ucciso il nostro frutto della giamaica Bob Marley Ebbene sì, tutti i cantanti agli ottanta sono morti come George Michael, Bob Marley, Elvis Presley Ma oggi è morta una cantante femmina e lo sai chi è? Raffaella Carrà Salve a tutti ragazzuoli, io sono Francesco Angerillo e benvenuti e bentornati in quest'altro nuovo video cacciaonastico Come avete oggi capito dall'intro e dal titolo del video, oggi vi andrò a vedere che la nostra cantante Raffaella Carrà è morta Soprattutto visto in ogni telegiornale nella mia televisione come il Tg1, il Tg2, il Tg3, il Tg4, il Tg5, il Tg Mediaset eccetera E soprattutto vi spiego il perché Raffaella Carrà è morta Prima di cominciare con questo video se siete fan di Raffaella Carrà lasciatemi tantissimi like Iscriviti al canale se non l'hai fatto E trovate su Youtube alcune canzoni che vi piacciono della Carrà E soprattutto se vi piacciono me le dite quando le incontrerò qual è la vostra canzone preferita E ora non perdiamo altro tempo e buona visione E prima di cominciare con questo video voglio salutare a Mario De Benedettis che ha commentato Con un bellissimo commento nel video di Ragnar al supermercato Adesso ora partiamo con il video La nostra Raffaella Carrà adesso nel 1989 quando è nato mio nonno la vediamo giovane di 32 anni E quando io sono nato nel 2009 la vedo a 42 anni Sono passati 2011, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 Adesso ora la nostra Raffaella Carrà ha 70 anni La settantenne è morta però Non lo so perché la Raffaella Carrà è morta Ma vi spiego il perché Non lo so forse ha preso una malattia Covid-19 al coronavirus e è morta Forse magari è quella la novità O la notizia volevo dire La notizia è E soprattutto la Carrà è morta Io ero rimasto male Però quando si fa un tale e quale show Perché nel tale e quale show 2021 Scopriamo Raffaella Carrà Come è diventata nelle prossime canzoni che la devono imitare Nel 2021 questo tale e quale show si deve ancora iniziare perché è 2021 E si fa a settembre E soprattutto vediamo che alcune persone imitano la Raffaella Carrà Praticamente io registro le imitazioni della prossima settimana E quando esce la foto di Raffaella Carrà Ve la farò scattare e ve la manderò anche su YouTube E soprattutto raga la nostra mitica 70enne è morta A me mi è rimasta male che c'è mancata la nostra Carrà E io nulla nulla Sono rimasto un po' commosso per questa notizia E l'ho vista al TG1 Che tutte le persone danno il bacio alla tomba di Raffaella Carrà Se vado pure io gli scrivo una lettera Con tutte le sue canzoni del 1989 E la mando subito a Raffaella Bene ragazzi il video di oggi si conclude qui Questa è Raffaella Carrà che è morta E così il video Se il video vi è piaciuto e anche la storia che vi ho raccontato Mi lasciatemi tantissimi like Se i commenti sono disattivati commentate Hashtag Raffaella Carrà E la vostra canzone preferita Se i commenti sono disattivati per ogni video che farò io Li incontro ai fan e dico Qual è la vostra canzone preferita E loro me la dicono Beh noi ci vediamo la prossima volta Ciao ciao